Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di WWE Supercard è stata una settimana allucinante, andiamo a vedere tra le mie carte cominciamo per gradi, carte Temprato sono arrivate, come tutti sapete, la bonus login di Dolph Ziggler eccola qua, ovviamente ce l'abbiamo pro e la faremo ragazzi, la faremo altra carta, come tanti altri voi avrete, è Chris Jericho presa dalla Ring Domination ma presa anche dalla Ring Domination ha un Cedric Alexander pescato a caso in una Shard passiamo alle Elite ragazzi, davvero è stata una settimana veramente incredibile ogni teoria è stata mandata al maiale praticamente abbiamo preso comunque Randy Orton, mi sembra, mercoledì chi altro? Ovviamente lui dalla Ring Domination lui, la sera prima di Randy Orton, cioè è davvero una cosa incredibile ragazzi praticamente non lo so, e proprio ieri John Cena dalla Draft Board in un match classificato normalissimo ora dico io, si dice davvero che le carte del tuo livello arrivano dopo un tot di pescaggi e di reset rari, insomma no però non lo so, in due giorni pescare due carte dello stesso livello mi sembra davvero una cosa impossibile quindi direi che completamente a caso peschi completamente a caso, non c'è una teoria veritiera dietro a tutto questo secondo me davvero, non lo so ad ogni modo ragazzi, Ring Domination siamo arrivati a prenderci la Bray Wyatt Ultimate siamo ad un buon punto, siamo a circa metà mancano circa, abbiamo un po' 4, 5, 6, 7, ma una decina di shard e un po' più di po', poco di più quindi diciamo che entro domani sicuramente l'abbiamo anzi in fondo al video metterò una timelapse di tutte le shard di questa carta ad ogni modo oggi ragazzi è domenica e quindi vuol dire spacchettamento 300 carte ci aspettano qui in a Draft Board cominciamo con le prime 52 ragazzi quindi ragazzi niente ci vieta in questo spacchettamento trovare anche un'altra elite perché ovviamente avendolo trovate due in pochissimo tempo possiamo benissimo trovare anche la terza perché ogni teoria adesso è andata a puttane completamente a caso se da parer mio le carte buone arrivano completamente casualmente in questo gioco non c'è più un ordine di tot di carte che devi prendere e poi ti arriva la tua completamente a caso quindi ragazzi siamo alla ricerca dell'elite o comunque una carta buona che ci può servire ad ogni modo vi posso dire fin da subito che nel prossimo Road to Glory penso di averlo anche già detto nello scorso video voglio avere un deck pronto per arrivare a prendermi anche la carta elite qualunque essa sia abbiamo da mettere a questo punto altre tre carte temprato pro No Way Joes è la prima Samway Joes e a questo punto anche Dove Ziegler Dove Ziegler però devo soltanto allenare una carta quindi l'altra è già al 100% quindi fortemente mi ci vorrà minor tempo però niente ci vieta di aggiungerlo anche con un Road to Glory già iniziato quindi anche successivamente perché poi alla fine fino a un certo punto ci arrivo quindi arriveremo tranquillamente a eliminare pian piano anche le carte Sam e Slam normali e pro e quindi buono ci serviranno per le fusioni perché una volta finito il giro è arrivato a prenderci anche la fusion ultimate dovremmo ricominciare da zero e quindi sarà dura ragazzi e dovremmo trovare carte di diverse rarità intanto una scala ultra rara tipo già cominciare ad accumulare qualche carta leggendare che già ho eccetera eccetera anche epiche potrebbero rifare comodo per le fusioni quelle più vecchie quali ultra rare epiche fino a sopravvissuto insomma in ogni modo siamo a 44 carte all'incirca abbiamo bruciato una quarantina di carte noi abbiamo ancora trovato un cazzo nella prima mandata ma è normale perché ogni volta non si trova mai niente nelle prime dobbiamo aspettare per forza sempre le ultime va bene così va bene così ragazzi l'ultima è Emma e ci vediamo tra poco ragazzi ecco ragazzi altre 50 carte per noi alla ricerca dell'elite la terza elite perché non c'è due senza tre ragazzi dobbiamo per forza trovare un'elite che sia pro esigo che sia pro quindi deve uscire l'elite questo gioco ragazzi avendoci un ulteriore pro elite arriveremo a dei livelli assurdi e il deck ultimate non sarà più un miraggio Cameron raro si riparte ragazzi quando comincia a sperare il gioco si prende il gioco di te quindi nulla da fare altre 38 carte andiamo a pescare il più possibile più velocemente guardiamo che se minaccio magari il gioco lui riesce a tirami di a trovare qualche carta quindi brutto pezzo di merda dammi la carta esce l'elite no niente niente ancora 30 carte signori dunque quante domeniche è che non troviamo assolutamente niente penso sia la terza domenica questa ho trovato tutto in settimana cioè questa ring domination è stata devastante ho trovato veramente di tutto come avete visto di tutto e di più guardavo ancora a finirla quindi non so come potrà andare a finire io spero davvero che durante la rattura delle shard di Bray Wyatt trovo anche qualcos'altro ve lo metterò comunque già detto in fondo al video come timelapse in modo molto velocizzato per farvi vedere insomma un po' la carta che si sgretola pian piano e arriva nelle nostre tasche insomma 14 carte ci rimangano attenzione ancora niente dering yang comune ecco allora Erick Roman ultra raro niente da fare ragazzi niente da fare io mi piacerebbe vedere proprio una carta che sbrilluce proprio tutto a schermo no perché sto usando anche il tablet che mi viene ancora più grande è ancora più bella 6 carte Erick Roman ancora nulla Damien Sandow le ultime 3 7 Rollins oddio perché cominciava già a deprimere ma è brutto ragazzi è brutta 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 e Big E tra l'altro Big E ce l'ho anche Sam e Slam e posso fare anche la Pro ma tanto poco serve perché non mi serviranno adesso già più se non altro ragazzi tutte queste carte Guastafest che troviamo le userò subito infatti per allenare il nostro Dolph Ziggler così almeno non dovrò consumare quelle altre che sto mettendo da parte per quelle più forti quali Bray White Ultimate e l'altra Ultimate Fusion che avremo praticamente settimana prossima ora probabilmente lo spacchettamento della Fusion Elite che c'è comunque di domenica che sto registrando adesso oggi è sabato il video ve lo vedete domenica praticamente scade il tempo scade domenica pomeriggio probabilmente lo spacchettamento ve lo farò vedere in un video di lunedì quindi poi ve lo farò vedere comunque che andremo a mettere nuovi tributi per l'Ultimate e sperare che quella carta sia davvero devastante una delle più forti perché non so ovviamente quanto possono arrivare come come potenza insomma diciamo via tutti i parametri non so quanto possono arrivare l'Ultimate di tipo fusione ancora 25 carte abbiamo trovato carte super rare tutte queste cartine che ovviamente non ci stanno servendo assolutamente a niente se non per allenare Goldast ancora comunque beh potrebbe essere anche un'altra teoria però ormai io cerco di smentirle tutte perché cioè lo vedo anche da solo che riesco a trovare carte con soltanto il fattore culo ivi ho detto culo è arrivata ivi leggendari infatti ragazzi cioè quando dico fortuna e culo arrivano le carte forse trovando carte che siano più rare del livello raro quindi super raro ultra raro trovandole magari più rari del solito a quel punto davvero ti tirano dietro forse qualcosa di meglio come per esempio una temprata un'elite eccetera anche perché ho dimenticato che in questa settimana ho trovato anche l'elite di tipo miglioramento che comunque è sempre un'elite sempre una rarità davvero incredibile quindi ci sta tutto comunque ultime tre carte abbiamo uno stardust una lisha fox e attenzione damian sandov e rusev abbiamo trovato in questo frangente di 50 carte una bella leggendaria alla prossima in attesa della rete perfetto ci siamo ragazzi siamo arrivati a prenderci anche la leggendaria quindi stiamo salendo stiamo andando verso la strada giusta attenzione ragazzi dobbiamo puntare veramente in alto altre 47 carte per noi abbiamo un fernando eccola qui questa festa è rara si riparte da capo un'ennesima volta ragazzi idio itami dammelo pro dammi un bello itami pro elite ci facciamo una carta quelle veramente una bella velocità un redback incazzato come una bestia abbiamo trump un poll beerer carta della resistenza ovviamente non mi lamento trovare a questo punto anche carte miglioramento di livello molto alto perché comunque come ho detto dobbiamo cercare di mettere da parte certe carte per le fusioni future e quindi ormai essendo arrivati a un deck molto alto comunque di livello perché comunque andiamo verso sting survivor signori siamo arrivati comunque oh cyber boost epico attenzione stanno arrivando tutte adesso boom 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 niente sascia beh si riparte da capo è stato un momento è stato un momento è stato un momento bello vabbè dicevo siamo arrivati ormai quasi ad avere un deck ultimate quindi le carte temprate ci serviranno soltanto in road to glory quindi magari quelle che dobbiamo scartare in qualche modo le useremo nelle fusioni perché avere a disposizione carte ultimate da fare in quel modo anche se ci vuole diversi giorni di tempo però comunque le possiamo fare molto più facilmente di altre per esempio come quella della money in the bank che a questo punto non so se la farò in futuro se non mi interessa magari qualche carta davvero davvero altrimenti perché c'è uno stress continuo e cioè dovrei accumulare carte per diversi un paio di mesi più per provare a fare anche una pro di quella quindi sapete benissimo che non ci riesco assolutamente perché mi piace troppo spacchettare quindi forse è più bello farle in questo modo che trovarle in quel modo non lo so alle prossime 50 eccoci qua signori mancano le ultime 100 carte per arrivare a 300 stiamo trovando diverse cose devo dire la verità stiamo trovando diverse cose rispetto ad altri video non sta andando malaccio rispetto diciamo le tendenze di trovare magari carte un po' più super rare stiamo trovando carte anche survivor epiche leggendarie mancano quelle che servono davvero e quindi io sento davvero che potrebbe arrivare qualche cosa questo gioco oggi lo sento davvero carico dai ragazzi se mi arriva l'elite ragazzi qui il delirio succede il delirio in questa stanza ragazzi non avete idea spacco tutto spacco ogni cosa luke harper attenzione john cena se mi arrivasse davvero l'elite di john cena come ieri praticamente cioè diventa una pro divastante perché john cena è una delle carte più forti e anche di essere i miei preferiti quindi sarebbe proprio il massimo in assoluto in questo momento però ovviamente spero anche in un bel brock lesnar the beast suplex city che però purtroppo non arriva mi piacerebbe davvero essi perché sapete ormai il mio preferito quindi trovare una carta veramente potente ho cominciato probabilmente la money in the bank prima carta solo per prender lui quindi dovreste trovare chissà qualche altra carta di lui ultimate se magari il gioco bugga in qualche modo non lo so vediamo ragazzi altre 14 ora ci stiamo bruciando questo giro di 50 in un modo veramente allucinante non stiamo trovando assolutamente niente in questo frangente ragazzi l'ultima i 10 attenzione jack swagger ecco il dinambros niente abbiamo tratto la rara questa festa non è ne altro ci manda tutto a puttane qua carisma forza miglioramenti a randa proprio cioè ce ne tirano dietro come se ci fossero domani rusev e velocità l'ultima resistenza miglioramento ho trovato solito miglioramenti che palle ultime 50 carte l'ultima chance di prenderci la carta elite ottemperato diva che ci può servire ragazzi così poi vi faccio vedere anche il deck che si sta diventando un deck da 5 stelle anche in rotto glory davvero ragazzi attenzione paul ayman cesaro sta andando molto a rilento idio itami attenzione tyson kid undertaker daniel bry le prime 20 carte ciao stardust ancora sensational sherry quella lì pisolone mark harry un rusev carta della velocità eric rowan ragazzi non vedo l'ora di arrivare finalmente al deck ultime per prendermi anche la freebie cioè a quel punto avremo davvero un deck veramente devastante chissà se magari prendo subito la pro come è successo anche in quello scorso quando ho preso la freebie di jimmy uso è rimasto veramente così non lo so nemmeno io che culo ho avuto siamo a metà più o meno a metà 22 carte ci restano ragazzi questo video lo ripeto è l'ultima chance veramente per oggi di trovare qualcosa abbiamo bruciato ben 300 carte ragazzi ve lo dico sinceramente 300 carte le bruciamo domenica nella speranza di esultare nel trovare qualsiasi cosa che ci possa servire per proseguire nel gioco ovviamente perché va bene che ogni due settimane con gli eventi e tutto saliamo veramente ma tanto però comunque già da un bel po' che nel classificato sono fermo fino a domani perché prenderò la carta di Bray Wyatt però non è che salirò tantissimo comunque la metterò a posto di Kevin Owen appunto soltanto mi sembra Bray Wyatt abbia la freccia a destra quindi non mi farà coppia più con Brock Lesnar ma comunque farà sempre team con con Jimmy Uso che è la freccia a sinistra e comunque non darà noia neanche a quell'altra perché comunque rimarrà soltanto Brock Lesnar con la freccia gialla in alto mentre l'altra è tutta destra e sinistra quindi non c'è assolutamente problema neanche con The Meats comunque le ultime due carte sta andando veramente lento non so per quale motivo sta laggando a bestia l'internet c'è The Big Show ultima carta niente da fare ragazzi abbiamo trovato un Rayback incazzato e mi ha fatto bene non te lo dò nemmeno questa volta niente ragazzi abbiamo bruciato ben 300 carte qui i contri sono al massimo perfetto possono cominciarle comunque andiamo qui in Road to Glory allora auto riempimento facciamo ok è già pronto il deck dunque vedete dunque le tre Summer Slam quali Enzo Amore Seth Rollins e Samoye Joe saranno le tre carte che verranno eliminate dalla Road to Glory e quindi diciamo le Summer Slam serviranno soltanto per le fusioni d'ora in poi perché qui c'andrà Samoye Joe Novo Ejo's e Dolph Ziegler in queste qui che saranno molto più forti quindi va benissimo così ragazzi ovviamente una avanzerà anche perché prendendo Brave Wyatt una dovrà comunque scalare quindi vabbè la terremo di riserva quindi ci sarà anche un'ulteriore carta che non servirà per momento perché sarà comunque un Elite quindi sarà lui che se ne andrà sarà lui che uscirà da questo deck ma che ci servirà in futuro quando spero di farlo pro quindi ragazzi anche per oggi è tutto spero vi sia piaciuto in questo video adesso vi lascio la timelapse della Ring Domination come è stato ragazzi se vi è piaciuto questo video vi invito a lasciare tanti like commentare qua sotto iscrivetevi al canale se non l'ho fatto Facebook e Instagram mettete la descrizione noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti